Ciao! Ti stai chiedendo come pronunciare correttamente la frase necessaria per il video di registrazione in Proof of Humanity? Non ti preoccupare, anche se non parli l'inglese abbiamo un trucco per te. Leggi lentamente e scandisci bene le seguenti parole. Fai un po' di pratica ed il gioco è fatto. A presto!